È un comune del territorio aretino ed in particolare Ortignano Raggiolo, ci troviamo in Alto Casentino ad aver completato per primo in Toscana opere con i fondi del PNRR, si tratta di viabilità. Abbiamo fatto una spesa di circa 130.000 euro totali, abbiamo completato dei lavori su una via che porta al centro storico del capoluogo, questa via funziona da alternativa per la via principale, quindi sia in caso di necessità ma anche è utile per realizzare dei lavori che ha bisogno la via principale di accesso al borgo di Ortignano. L'altra invece è una via che porta al nucleo di Uzzano, è un nucleo abbastanza importante storicamente perché il fatto di risistemare questa strada fa sì che oltre a ridurre per noi i costi di manutenzione, fa anche contente queste persone che si spera vengano ad abitare qui nella nostra valle. Ecco, immagino che uno dei motivi principali per cui è stato detto sì a questo finanziamento è proprio evitare lo spopolamento di queste montagne che sono bellissime ma comunque hanno dei disagi appunto anche per la viabilità e non solo. Sì, noi sempre sul piano del PNRR abbiamo presentato un progetto in collaborazione con il Comune di Giussi della Verna che riguarda la rigenerazione dei borghi e avremo circa un milione di euro da spendere proprio a questo fine per migliorare sia la vivibilità urbana ma anche sociale nei nostri borghi, in particolare nel Borgo del Raggiolo che fa parte dei borghi più belli d'Italia. Poi avevamo l'esigenza di spostare il nostro asilo nido e quindi anche lì abbiamo presentato un progetto per portare da una zona oggi in pericolosità idraulica alta a spostare l'asilo nido in una zona a pericolosità idraulica media. Questa è un po' una sorta di inversione di marcia rispetto invece allo spopolamento di queste zone, quanto la vedete vicino? Diciamo che ultimamente alcuni obiettivi si sono raggiunti e quindi anche cercando di sfruttare questi fondi io vedo che il nostro comune comincia ad essere abbastanza appetibile. Poi è una valle in cui si vive bene, ci sono tante attività e paesi importanti come il Raggiolo che è uno dei borghi più belli d'Italia e quindi speriamo che l'obiettivo si concretizzi.